Torna su Rete 8 domenica primo gennaio 2023 alle ore 14 numerite feccatarino. Ma come faccio? Ma è troppo brutto! Ce la faccio? Manca a guardarla tutti i barini, non mi piace! Chiudi l'occhio! Chiudi l'occhio! Sai che lì? Ma l'hai spusata io chiudi pure l'occhio! Perché io come sono fatto in che parte? Tu sei un ufo! Tu le sei che sei buono a fa' a mangià, a cacà e a tapparci! Rocco, scacchi le orecchie con le tapparci! far vivere l'occhio! Hai fatto un blu della vigna! Ha contato nella sera innamorata! Imperdibile nella sua versione originale del 1998 al Teatro Marruccino, il gruppo San Rocco delle Piane di San Giovanni Teatino, numerite feccatarino. eravamo a Fiuggi, ti ricordi mamma che eravamo a Fiuggi? Andare? Sì, certo! Andare ci sarà a Fiuggi? Certo! Andare ci sarà acqua che fa a Fiuggi? Ma certo! Che tu ha se? Villarei! De Villarei! Sì! Oh! Ma le conosce Andrei? Chi? Andrei di Villarei! Andrei di Villarei! Andrei di Villarei! Andrei di sette vespe in culo di me! Andrei! 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 Andrei di scegli! Poveri Andrei! Come faccio? Numerite feccatarino. Domenica 1 gennaio 2023, ore 14, Rete 8. Poi! Andrei! Andrei! Andrei!